Il futuro è anche abbastanza vicino, avrà sempre la laguna, ovvio, ma dall'altra sponda una città vera e pulsante appena fuori lo scalo aeroportuale. Non zone residenziali ma tutto quanto fa terziario, sport e tempo libero, compreso un milione abbondante di metri quadri di parco, a ridosso del nascente Bosco di Mestre. Il nuovo masterplan sembra aver messo d'accordo Comune di Venezia, Regione Veneto e Save, la società cioè che gestisce il Marco Polo. E noi con gli accordi di oggi abbiamo messo le basi perché non ci siano ipoteche negative sul futuro. Delle due l'una se il traffico crescerà e ci sarà l'esigenza di una seconda pista abbiamo tutte le condizioni per poterla fare. Se invece non si volerà più o gli aerei decolleranno verticalmente avremo comunque preservato un pezzo di Veneto da diventare come tutto il resto della regione la casetta e la fabbrichetta, la fabbrichetta e la casetta. La città-aeroporto si dovrebbe iniziare a costruire nel 2009, utilizzando la finanza di progetto, quindi gli accordi con i privati poi gestori degli spazi e privilegiando lo stadio da 30.000 posti coperti, costerà 50 milioni di euro e la nuova sede del casino con tanto di struttura alberghiera adiacente, altri 65 milioni. Quel casino che a Canoghera stava per rinnovare la propria sede. A questo punto cosa succede? Succede che dovremmo ripensarci perché se, come auspichiamo tutti a questo punto, gli accordi intervenuti dovessero portare a una realizzazione in fretta del nuovo casino, sicuramente l'ampliamento di Canoghera verrebbe meno nella sua importanza. Da luglio comunque Canoghera potrà contare su 200 nuove slot machine e 40 tavoli da poker texano in più. E il masterplan non pone limiti, le aree verdi avranno piste pedonali e ciclabili, un paio di nuovi svincoli per togliere il traffico da Tessera e farlo giungere alla bretella tangenziale. Un people mover che trasporterà velocemente dall'aeroporto alla più vicina stazione del metro nei pressi dello stadio. Non viene esclusa nemmeno una fermata della ferrovia ad alta velocità. A un aeroporto, d'altronde, non si può chiedere di volare basso.